bentornati a giulia passione equitazione yeee no non sono scherzi è shadow of colossus adesso sto cercando il colosso che dovrebbe essere là sopra però devo fare il giro per raggiungerlo mi sa mi sa non sono neanche sicuro adesso provo eh che non mi ricordo una mazza arriva la cavalleria cioè uno solo contro il colosso gigante proprio colosso lì che non fa un cazzo e noi devono andare a ucciderlo devi fare i fatti suoi proprio e non devono andare ammazzati vorrei capire dove il diavolo devo andare perché ma non come granoppo stupido cavallo triangolo cavallo triangolo poi triangolati così bene che triangoli poco vedete dove già sto triangolo come va dove diavolo eh triangolo cavallo ok andrei qui sopra senza farlo inciampare magari x ok non si va così ci deve essere un modo perché non so dove da che parte devo andare sì lo so sono stupido faccio le spese senza sapere che cacchio fa ok che cavallo fammi salire va ho capito che non è il nostro posto non ho sbagliato tasto devo fare triangolo non x fottuto cavallo ecco grazie adesso muoviti cavallo veloce ti prendo a calci fino a che non ti sbri ma sei stupido ecco bravo si maltratterò il cavallo per tutto quanto il gameplay stupido cavallo vai più veloce che devo capire da che parte si sale qua che vi assicuro che ci metterò secoli per capirlo perché non ho la mia idea di dove dovrei andare ah c'è una mappa no usiamo la mappa allora lì c'è una stradina sembra quindi andiamo per lì però poi si sta anche da sto cavallo no ma io fino ad allora lo sfrutterò fino a che non cada la terra stremato voi cavallo di merda voi voi cavallino bello voi c'è una grande montagna di nananana lì c'è una stradina sembra una stradina almeno penso che sia una stradina è una stradina sì è una stradina che spero di porti dal colosso berson non ha idea di come arrivarci più veloce cavallo più veloce se tengo per muto triangolo no ma più veloce o va uguale c'è tanto di qua nebbia che non ci vedono mazza nebbia di merda più lo sporco sullo schermo non aiuta subito dopo lo pulirò lo prometto a me stesso proprio e passiamo per vico sto salendo quindi ma questa sta andando di essere giusta ok la spada non mi dice un cazzo sarà nel punto giusto no spada dimmi dove sono sto andando bene o male uffa mi sa che quel posto sbagliato eh guarda torniamo indietro ma che palle dovevo informarmi prima sulla posizione dei colossi invece che fare subito il gameplay po stupido voi sei lento cavallo di merda ti sto andando a sparare nel culo se non ti sbagli bravo prosegui così ok qui non posso chiaramente vedere vabbè il colosso perché manca il sole totalmente ore la velocità del cavallo estrema tra un po' arriremo al sole suppongo sto spaccando il tasto triangolo se non imprendolo adesso tengo premuto vediamo se cambio qualcosa ok non cambia nulla quindi te lo premuto questo triangolo bene qui c'è il sole e lo shadow di colossus è qui me lo dice anche la vibrazione del joystick una volta che io di sopra non ci posso arrivare porca racca perché io non mi informo qui qui è bello la metri gioco è bello grande proprio è molto ampio il che vuol dire che non è una cosa positiva è una cosa negativa perché se non si è bello grande non so che cacchio sia ecco è lì se da qualche parte è lì sopra il colosso per quella strada lì se ho già andato non ci si può andare perché boh perché il gioco non piace da mille vie facili quindi faccio la strada all'altra parte a sto punto vai cavallo più veloce cavallo ti pianto la spalla nel culo se non vuoi più così se troppo lento ci metteremo una vita ad arrivare vabbè dai almeno ci vuole meno tempo che in gta 4 gta 5 non so in gta 4 ci vuole una vita per arrivarci ok qui non sembra ci possa andare forse verso ancora un altro paligino mappa basta non si capisce nulla di sta mappa ma che due palle adesso ci prova vediamo se è di qua ok quasi sicuramente no eh ho poca fiducia nella mappa di gioco io sono convinto che ho fatto una cazzata andare di qua basta vado di la e vedo se riesco ad accederci in qualche modo sbrigati cavallo come si chiama sto cavallo voglio sapere il nome del cavallo vai per il momento ti do un bel nome cavallo come in golden age no in golden age se in dragon age c'era il cane che si chiamava canne e tutti c'era un cavallo che ti chiami cavallo voi cavallo voi tanto è qua che devo andare sicuro perché qui forse posso adampicarmi si vaffanculo è così che si fa è diventato anciate di gioco poi anciate non faccio queste cazzate vorrei adampicarmi ok a premuta R1 eh forse qui ah x per saltare non darmi i costruzziamenti sbagliati io ho cambiato i comandi oh che bello finalmente sono riuscito a risolvere qualcosa no i soldi ok yeee con quadrato si attacca con destra cambio le armi e ho anche le mani come armi ah no non ho le mani come armi peccato sarebbe stato interessante sconfiggere i colossi a mani nude proprio a pugni nooo strangolandoli dai sali vuoi su ah ok posso anche attaccarmi proprio nel senso così con R1 perfetto poi deve uscire un gioco che si chiama Last Guardian che è sempre fatto dai stessi di Shadow of Colossus però è un tuffo con Caprio ed è uno e x il gioco continua a confondermi fino alla fine dei tempi olè veloce come veloce il vento un uomo vero senza timor potente come un vulcano attivo quel uomo sarai che adesso non sei tu na 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 aia ho pensato che vabbè non pensavo che dovevo tenere permuta R1 fino alla fine dei tempi salta R1 mi sembra dimmi in triangolo basta ho capito e in realtà si è bloccato il programma proprio in questo momento tragico eeeh vai dai non cadere grazie grazie wonder i wonder if bu 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 ok mangiati su bene va ta 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 devo mettere in pausa un secondo no ho saltato il filmato no no vabbè grazie